Tre incidenti nel giro di 48 ore, questo il triste resoconto del fine settimana sulle strade del Cilento. Il più grave di questi sinistri si è verificato nella serata di domenica a San Biase, frazione di Ceraso, dove due fratelli di 16 e 17 anni, Biaggio e Sabattino Fiorella, in sella alla loro moto, sono finiti fuori strada mentre stavano rientrando a casa, andando a finire contro un muro. Il più piccolo dei due è in condizioni disperate, ricoverato in coma nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Luca di Vallo, mentre Sabattino, pur se con gravi lesioni alla milza, non è in pericolo di vita. I due giovani, secondo i rilievi effettuati dai carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania, viaggiavano a velocità elevata e senza il casco. Un paese intero, Ceraso e la frazione di San Biase, dove stavano per concludersi festeggiamenti per la festa del pane e in apprensione per la sorte di Biaggio, la cui vita è appesa ad un filo e che tra l'altro, proprio oggi, compie 16 anni. La lunga scie di sangue sull'asfalto è proseguita ieri pomeriggio sulla provinciale 430 Cilentana, coinvolte due auto nell'incidente avvenuto all'interno della galleria subito prima dello svincolo di Vallo Scalo. Una delle due vetture, esbandate, si è ribaltata finendo contro l'altro veicolo. Quattro i feriti ricoverati in gravi condizioni al San Luca. Ed i carabinieri sono intervenuti anche a Casalvelino, dove un'auto ha investito alcuni passanti, ma fortunatamente senza gravi conseguenze per questi ultimi.